insieme a natale è stato dedicato alla regina elisabetta seconda e ai valori che ha sostenuto per tutta la vita il principe william ha reso omaggio alla sua defunta nonna elisabetta seconda mentre pronunciava una lettura toccante durante uno speciale servizio di canti natalizi guidato da sua moglie il principe di galles ha citato la defunta regina mentre leggeva un passaggio incentrato sullo spirito di unione incluso nella sua trasmissione natalizia del 2012 questo discorso acuto è arrivato poche ore dopo che il gigante dello streaming statunitense netflix ha rilasciato gli ultimi tre episodi della serie di docu ferry megan in essi il duca e la duchessa di sussex hanno sollevato una serie di accuse potenzialmente dannose contro lo studio i cortigiani e singoli membri della famiglia reale il principe di galles era tra gli obiettivi dei sussex il principe ferry ha affermato nel quinto episodio del documentario di essere stato urlato e sgridato dal fratello maggiore di fronte a una tranquilla regina elisabetta seconda durante un incontro tenutosi nel gennaio 2023 per definire i termini di uscita dalla ditta del duca e duchessa di sussex quell'incontro hanno affermato megan e ferry è stato fissato solo dopo che il palazzo ha saputo che megan aveva lasciato il regno unito per ricongiungersi con suo figlio in canada per non avere la sua parte nelle discussioni il duca di sussex anche affermato che il suo nome è stato inserito in una dichiarazione congiunta con suo fratello per annullare un rapporto in cui si affermava che lui e megan erano stati vittimizzati dallo studio da william a sua insaputa sia Kensington Palace che Buckingham Palace hanno dichiarato che non commenteranno nessuna delle accuse incluse nella serie di documentari su ferry megan è estremamente improbabile che il principe di galles abbia scelto questa lettura in risposta a suo fratello e sua cognata poiché il servizio era stato pianificato molto prima dell'uscita del programma netflix tuttavia avrà probabilmente risuonato con la congregazione riunita presso l'abbazia per il servizio che comprendeva leader di beneficenza eroi di tutti i giorni per le loro comunità reali e allister che Chiara hai o ijin to al ijin Oh iu o no ii naru Sen takši ga arima so Shopping mall De wazza to Ah, taši ha nata o Sve sa letai to Omo te aruma Su